E adesso parliamo di pallavolo, il campionato di SGB1 donne, giunto al suo terzo turno del girone di ritorno con l'importante sfida oggi pomeriggio alle 18 al Palasport Nando Di Leo di Cerignola per la penice libera Virtus che ospita Orsonia. Le ragazze allenate da Marco Brevigieri immediatamente vogliono riconquistare la vetta della classifica a spese della pallavolo Aragona che ieri ha vinto contro la Torre Senavoli con il punteggio di 3-0 ed è provvisoriamente in betta. Una partita da non sottovalutare come spiega ai microfoni di Sport Report Betty Totora, team manager della penice libera Virtus.